Benvenuti a tutti in un nuovo video, oggi vi mostrerò come cambiare le spazzole la vostra tipo e non solo. Per prima cosa tiriamo su le aste del Sergio Cristallo, dopo di che schiacciamo questo bottoncino e tiriamo il Sergio Cristallo, come vedete esce in maniera molto semplice. Una volta fatto questo, usate le spazzole che avete comprato, io ho preso queste Airframe della Bosch, vedete dietro c'è il modello piattivo, adesso vado a fare un piccolo unboxing, in questo kit abbiamo sia l'anteriore sinistra che l'anteriore destra, non avendo quella posteriore non mi serviva. Allora andiamo a togliere la protezione da queste qua nuove e vedete l'attacco è identico a quello che abbiamo tolto. Dopo di che andiamo a incazzare il Sergio Cristallo dentro, io faccio un po' fatica perchè sto usando una mano a prendere il telefono, ecco qui. Dopo andiamo a spingere finchè non si sente il classico click che ci fa capire che il Sergio Cristallo è fissato, qui. Per il Sergio Cristallo il discorso è uguale, io faccio sempre fatica perchè sto usando una mano sola, andiamo a incassarlo ed ecco qua ha montato il nostro Sergio Cristallo. Ecco il risultato finale di come mi hanno montato la routine, adesso vi farò vedere come puliscono il vetro. Allora, io mi trovo molto bene rispetto alle originali della Mopal. Questo è tutto, se vi piace questo video iscrivetevi e lasciate un like o un commento. Grazie a tutti.